Ho letto più di 300 libri negli ultimi quattro anni tra libri fisici e audiolibri Perché? Perché ci sono tantissime persone che magari oggi non ci sono più ma hanno lasciato qualcosa Tutte le loro conoscenze che hanno acquisito nella vita e quindi io sarei stupido a non prenderle e non farle mie C'è questa frase che la differenza tra uno che non legge e uno che non sa leggere non esiste